Siamo con Walter Malà della distilleria di Lorenzo e la nostra domanda è come nasce la vostra azienda? La nostra azienda è da fine 800 che è presente, è una delle aziende più grandi in Italia e è già da tre generazioni che esiste questa azienda. Noi facciamo principalmente dei distillati, grappa, acquavite. Qual è il vostro prodotto di punta per il 2010? Noi vogliamo partire con una nuova linea che è questa qui, sono due tipi di grappa, un brandy e una grappa barriccata. Già abbiamo vari prodotti, noi diciamo che principalmente puntiamo sulle grappe giovani, è quello che storicamente la nostra ditta fa, però ciò non toglie che attualmente il mercato richiede prodotti invecchiati e abbiamo già due prodotti molto affermati che siamo un po' l'elite della nostra azienda, un brand invecchiato 20 anni e una grappa riserva, oltre 18 mesi in botti di rovere. Sono ottimi i prodotti e proprio per questo motivo, in quanto sono stati molto apprezzati dal pubblico, viene richiesto anche altri prodotti un po' più giovani, sempre invecchiati e diciamo che è quella la tendenza del mercato attualmente. Infatti stiamo per uscire con una nuova linea. Cosa vi aspettate dalla vostra presenza ad Acquavita Italia 2010? Più che altro una conoscenza dei nostri prodotti a livello più ampio, perché nonostante il tempo da cui ci conoscono anche nella zona, non è che siamo conosciuti chissà quanto anche nel resto d'Italia e molto anche nella nostra regione non è che siamo conosciuti, nonostante siamo l'unica distilleria in Umbria. In bocca al lupo e buona serata. Grazie.